che cosa mi faccio? Chi fai d'endoro? ...e tu vuoi che vai per l'aiuto? E se vuoi? E se vuoi, tu vuoi! ...fai non ho fatto mai più.. ...no no A quanti sono fatti? ...chi amare me ne sta l'apposta ...ma sottose ...ma sottosche a tirare, a tirare, a tirare ...ga sottosche ...ga sottosche ...aspetta le due grade ...it'icola Grazie a tutti.